Bene, pronta? Hai preso tutto? Sì. Ah, guarda che dobbiamo fermarci a far benzina. Ieri quando ho preso la macchina era già in riserva. C'è subito un distributore Shell qui. Fermiamoci, così poi facciamo tutta una tirata. Va bene. Ma non è cambiato? Sembra tutto nuovo. Bello però, è più luminoso. Sembra anche più grande. È vero, guarda. C'è un bar e un piccolo supermarket. Buongiorno. Buongiorno. Facciamo il pieno? Sì, grazie. Grazie. Controlliamo anche i livelli di acqua e olio? Sì, grazie. Guardi però che abbiamo fredda. Si preoccupi pochi minuti. Il tempo del rifornimento. Poi il viaggio sarà più tranquillo. L'olio è al posto. Ma le consiglierei di prendere dell'antigelo. È al limite. Presto avrà bisogno di un rabocco. Sì, grazie. Ma dove lo trovo? In quell'espositore. Venga con me. Che ordine. Che pulizia. Ah, questo mi serve proprio. Grazie, signor Berti. A presto e buon viaggio. Ah, non dimentichi i bollini della promozione. Grazie a lei, signor Terzoli. Ci rivedremo molto presto. Non posso crederci. Guarda. Anche qui è la Shell. Ah, mi pareva strano.